Nuova settimana, nuovo mercato nero di Mauriz, nuove armi da testare. Questa settimana le armi da testare saranno Phasor, Beach e Bangalang XL. Partiamo dal Phasor. Graficamente uno dei miei assalti preferiti, soprattutto per la modalità shotgun alternativa. Come modalità assalto non è nulla di speciale, è un assalto che spara laser praticamente. Ha un danno nella media, con Revolter può essere un po' utile ma finisce lì la storia. Però come vi dicevo ha una modalità shotgun che spara queste sfere di energia molto veloci che fanno molto danno e in molti casi è meglio di uno shotgun. Questo è praticamente uno shotgun completo anche perché riuscirete ad avere tantissime munizioni anche. Non è una cosa da un singolo colpo e basta, guardate che cosa. Infatti quanti proiettili sta sparando per botta? Fa veramente molto più danno che andare a utilizzare la versione assalto e consuma molte meno munizioni. Cioè, vedetevi un po' un singolo colpo. Quanto danno fa? È una cosa assurda. Ora, magari contro un nemico che è resistente al nostro elemento non sarà l'arma migliore di tutte, però... Capite voi quanto sia forte. La seconda arma di oggi è la Beach. Nulla di speciale, raga. È un SMG normalissima il cui nome è praticamente speciale. Non c'è davvero molto altro rimasto. Quindi io non mi sento di star lì a consigliarvela, sinceramente. Nella media Correvolter è un po' utile per fare del mobbing ma la storia finisce lì. Contro i boss è completamente inutile. Figuratevi contro i raid boss. Infine abbiamo la pistola Bangarang. Una delle due versioni di pistola Boomerang, eccetera, che veramente mi fanno pena. A livello di danno è inesistente. Non utilizzatela perché davvero ci vogliono non so quanti caricatori a far fuori super pesante. A livello di lancio, essendo una tediore, anche qui, è carina a livello grafico perché spara questa pioggia di proiettili. Quindi, purtroppo però, a livello di quanti danni vado a fare, io, raga, non so bene quanti considerarne, sinceramente. Perché di danni non ne fa tanti. Proviamo qua in mezzo, in mezzo a questo gruppo di nemici. Vedete che non sta facendo nulla, quindi assolutamente non consigliata. Insomma, settimana fiacca per il mercato nero di Maurice. L'unica arma un minimo decente è il Phasor, ma è farmabile. Per cui non so quanto vi posso consigliare di comprare qualunque cosa questa settimana. Mi terrò i soldi per la prossima. L'unica arma un minimo decente è un minimo decente.